Marinaio a quattro zampe, la manifestazione organizzata dal porto di mare dedicata alle imbarcazioni che a bordo hanno un quadruppo ed è stato un successo. La darsena Mosella che ha ospitato l'evento ha visto dimostrazioni di obbedienza e agility e dispensazione di consigli sulla gestione e sull'educazione del cane. Interessante anche la conferenza tenuta dai medici veterinari dottor Cattò Marco e dottoressa Nicoletta Siviero relativamente alla vita in Barca dei Pet. Lo spazio dedicato alla veleggiata ha visto partecipare 18 imbarcazioni con la vittoria di Capo Horn. È stata davvero una bellissima manifestazione ha commentato il presidente del porto di mare Giuseppe Modugno. Quella di quest'anno era la quarta edizione se pensiamo che quando siamo partiti eravamo appena cinque barche ed oggi a distanza di pochi anni già in 18 vuol dire che il format piace e questo ci fa molto piacere. La manifestazione si è conclusa nel tardo pomeriggio di domenica con le premiazioni presso la Darsena Mosella e con un arrivederci al 2024.